ciao a tutti ciao bentornati a una nuova avventura del podcast mettiamoci la voce all'unisono abbiamo detto in coro il podcast di leggere a voce alta io sono francesco maria grazia e sandro il tema è un nascosto di cosa si parla allora oggi parleremo di leggere testi propri e abbiamo ti sorprendo ecco perché oggi lo facciamo con un ospite per la prima volta lo facciamo con un ospite che non è qui con noi o collegato via skype ma che ha risposto alle nostre domande via via email e ci ha ci ha chiesto di partecipare comunque anche se non poteva essere fisicamente presente quindi intanto intanto diamo il benvenuto ad arianna porcelli safanov che ringraziamo la ringraziamo assolutamente che potete trovare in rete in realtà un po ovunque perché è molto presente ed è anche molto seguita per cui potrete trovarla sul sito ariannaporcellisafanov.it sulla pagina facebook e sul canale youtube oltre che sul suo blog madame pipì da cui trae una buona parte poi dei dei suoi monologhi arianna è una autrice e lettrice a voce alta e quindi oggi è perfettamente in tema con quello di cui andremo a trattare ma c'è un ma e vi chiedo se è possibile visto che così non andiamo a falsare quella che può essere la percezione di chi ci sta ascoltando io vi direi di invertire le voci invertiamo i poli quindi se maria grazia vuoi leggere tu le nostre domande le abbiamo fatto una serie di domande appunto che riguardano la lettura voce alta e proprio rispetto al fatto che lei nelle sue esibizioni pubbliche utilizza appunto testi scritti da lei quindi il focus questa sera è appunto parlare di lettura voce alta da parte anche degli autori quindi essere lettori ed essere autori la prima domanda è stata come è nata l'idea di inserire la lettura a voce alta nel tuo esibirti in pubblico dalla constatazione che come pubblico siamo sempre meno abituati e reattivi all'ascolto trovare a stimolare il divertimento seppur attraverso la lettura mi è sembrata una sfida edificante con una duplice opportunità riconsegnare dignità all'amore per la lettura e per l'ascolto da una parte e proporre un modo inedito di fare comicità che presupponga un testo di livello lontano dal cabaret nei tuoi spettacoli quali sono le criticità e i punti di forza relativi al leggere a voce alta leggendo c'è un po il grande rischio di non riuscire ad avere sempre alta l'attenzione sul pubblico questo che apparentemente potrebbe sembrare un punto critico in realtà mi consente maggiore concentrazione sul testo e di conseguenza maggiore divertimento e se mi diverto io in genere si diverte anche il pubblico il punto critico è uno solo a mio avviso banale ma essenziale il testo scritto va sempre adattato alla lettura voce alta alleggerito rinforzato dalla gestualità dalle intenzioni ma anche dalla snellezza della sua traduzione ad una maggiore colloquialità il più possibile informale hai aneddoti divertenti a voce alta storie buffe al leggio il classico soffio di vento che spara in aria tutti i fogli accuratamente piazzati sul leggio e che ti fa alzare lo sguardo sul pubblico che irremediabilmente ti guarda con l'espressione di sfida e ora vediamo se lo sai anche a memoria maledetto pubblico la tua lettura voce alta è molto teatralizzata specularmente prepari i tuoi monologhi leggendoteli a voce alta cosa intendi per lettura teatralizzata nella mia lettura c'è edizione e le intenzioni di chi è appassionato al racconto ma di teatro ce n'è davvero poco infatti io non sono un'attrice non preparo i miei monologhi li scrivo e amo il gusto e l'emozione dell'improvvisazione quando mi capita di fare lezioni ed interventi nei licei mi rendo conto che si teme moltissimo la lettura voce alta perché rappresenta un canale aperto al giudizio di chi ascolta e per i giovani è piuttosto compromettente beh in questi contesti cerco sempre di trasmettere ai ragazzi il gusto del divertimento nella lettura perché se ti diverti il giudizio altrui pesa di meno hai pubblicato vari libri sei una scrittrice a voce alta ho pubblicato due libri fottuta campagna nel 2016 e storie di matti nel 2017 entrambi scritti in religioso silenzio nel privato qual è il tuo rapporto con la lettura a voce alta un pessimo rapporto con la voce alta e un ottimo rapporto con la lettura e quindi questa volta abbiamo iniziato con una testimonianza diciamo così riportata che però ci offre anche degli spunti perché perché in effetti fino ad ora abbiamo chiacchierato di leggere questo e quello la poesia testi per bambini favole narrativa non narrativa però non avevamo ancora nello specifico parlato del fatto che l'autore l'autrice può essere anche il lettore a voce alta sì e oltretutto questa questa attività cioè di leggere i propri testi a parte che può essere anche un ottimo controllo del testo stesso perché molte volte finché non sentiamo il suono della voce come veramente uscirà noi non possiamo sapere la resa e quindi è un consiglio che noi diamo a chiunque scriva ma in qualsiasi contesto e non solo chiamiamolo estetico ma anche scrivere dei rapporti per il lavoro delle relazioni ebbene una mail anche banalmente quando la mela è importante ebbene come controllo leggere sarà una volta la voce alta parte che vengono fuori anche molti refusi facendo così ma poi soprattutto sull'efficacia del messaggio che si vuole dare e poi naturalmente questo viene rinforzato nel momento in cui davvero scriviamo qualcosa che sia destinato a leggere a essere letto a voce alta qui nella nostra chiamiamola intervista ad arianna abbiamo messo un po sul piatto i due aspetti della teatralizzazione e della lettura che è un punto nel quale noi insomma abbiamo avuto già in passato modo di chiarire la nostra posizione e cioè il fatto che la lettura come dire pura la lettura di narrativa non è la lettura teatralizzata non è la lettura drammatizzata ora nel suo caso lei oltretutto dice io non mi definisco attrice e e quindi questo però comunque il suo usavamo fra noi questo termine perform che spero che lei ci passi e non ci censuri perché comunque lei si esibisce a un pubblico in un teatro quindi c'è anche in altre situazioni di teatralità ora possiamo chiamarli reading show anche come dice lei io stavo spulciando un pochino per capire se potesse andare bene la nostra definizione e direi che reading show potrebbe già essere anche una dove c'è appunto però in un sito questo quindi tra l'altro io consiglierei a chi ci sta ascoltando di andarla a sentire quindi anche su youtube o su pagina facebook perché è molto divertente i testi sono freschi e molto carini molto simpatici e fanno riflettere in alcuni casi per cui diciamo a mio avviso c'è una componente anche in più a metà tra le due cose perché se sei lo scrittore che dovrà leggere il proprio testo sai anche esattamente quale effetto vorresti provocare sulle persone che ascoltano e quindi si mischiano la scrittura e la lettura per cercare probabilmente di raggiungere quell'obiettivo quindi scrivi pensando di leggere e leggi sapendo cosa hai scritto sì quindi metterei anche questa dimensione diciamo così centrale perché se il lettore a voce alta è diverso dall'autore c'è il discorso proprio dell'interpretazione intesa non nel senso teatrale ma nel senso letterale esatto interpretare traduce in qualche modo attraverso la propria sensibilità attraverso la propria cultura infatti ci sono dei casi non solo nella lettura a voce alta ma pieno diciamo nel mondo della musica del teatro del cinema della letteratura in cui ci sono state addirittura delle frizioni tra l'autore e quelle che poi portava diciamo attuava diciamo il testo e invece in questo caso qui è proprio l'autore stesso e io mi sto perdendo in un loop perché se il lettore a voce alta è solo strumento è solo mezzo per far arrivare il testo alle persone ma il lettore a voce alta è anche chi questo testo l'ha scritto è mezzo di se stesso è l'ora della filosofia è un loop filosofico dove leggiamo? comunque non è così peregrino questo discorso perché comunque se tu pensi a certi autori cioè che nascono come autori ma che poi leggono in pubblico le loro cose non si fanno sempre a se stessi un grosso favore perché spesso mettono avanti la loro voglia di essere in primo piano come interpreti e secondo me lì bisognerebbe anche capire e avere un po' diciamo una parola che viene spesso equivocata invece secondo me ha un significato molto diverso da quello che le si dà normalmente l'umiltà di dire ok cioè mi piace questa cosa ci sono casi di poeti straordinari che magari leggendo le proprie poesie magari non rendono così a volte come dire è una cosa fatta in buona fede e allora mi sta bene a volte invece è proprio un po' quella cosa che diceva Sandro cioè si mette avanti la voglia di esibirsi e ritorniamo al punto sempre già si perdono i ruoli sì sì e in qualche modo lì l'autore dice probabilmente ah sì adesso faccio vedere che sono bravo a leggere l'autore deve essere autore finché ha la penna in mano e quando ha il libro in mano deve diventare lettore distaccarsi un po' distaccarsi nel senso non emozionale ma cioè prendere una sorta di distacco che gli consenta di trasferire attraverso la propria voce i suoi testi questo succede anche in campo teatrale quando l'attore è anche autore e lì la componente tra virgolette esibizionistica c'è per forza perché l'attore comunque si sta esibendo però bisogna secondo me trovare un equilibrio appunto tra i ruoli questo è vero invece chi magari legge anche per tu facevi l'esempio prima relazioni e robe così per lavoro e ha magari scritto qualcosa o in cui crede o che crede che trasmetta dei concetti interessanti e importanti ha tra virgolette il dovere di preparare comunque la sua lettura al di là del fatto che si è abituato a non farlo sì sì e visto che appunto prima parlavamo nell'ora di filosofia siamo nell'ora di filosofia mi viene in mente Schopenhauer quando diceva che chi scrive deve fare attenzione perché la parola esce dalla testa del lettore e cade segue un po' la legge di gravità è facile per l'autore scrivere qualche cosa ma non deve mai dimenticarsi che poi il lettore dovrà poi decodificare e la parola andrà proprio come un salmone controcorrente e quindi ecco in questo senso riportando il discorso della lettura a voce alta leggendo la voce alta questo processo possiamo fare più attenzione all'efficacia del nostro scrivere specialmente se sono relazioni perché magari nella nostra testa è facile noi sappiamo tutto bene scriviamo eccetera ma poi chi la leggerà veramente avrà possibilità di capire effettivamente e leggere una relazione a voce alta prima di presentarla è cosa buona io so che non solo l'umile impiegato o il comunicatore o quello che comunque deve scrivere una mail è bene che legga io so che ci sono illustri esempi nell'ambito della letteratura e del pensiero comunque famoso, umano che adottavano questa tecnica per migliorare i loro testi o per scriverli direttamente mi sbaglio? per scriverli proprio direi è quello che abbiamo usato come termine nella domanda sei una autrice a voce alta ecco sì, infatti ecco un'altra cosa che mi ha colpito e che sottolineiamo anche noi tantissime volte proprio il discorso del divertimento più volte lei risponde proprio alle nostre domande mettendo l'accento proprio sul sul lato del divertimento che si va al di là della comicità del ridere è proprio di stare bene mentre stai facendo quella cosa e comunque questa cosa dello scrittore a voce alta è interessante perché ci dà proprio il senso di come a volte la creatività di autori adesso parliamo proprio di narrativa quindi non di teatro passasse per alcuni come per esempio Dostoevsky attraverso proprio la così la necessità evidentemente noi non lo sappiamo come prova però però sappiamo che lui per esempio dettava i propri romanzi sì a voce alta la moglie magari non era il primo step creativo no? magari aveva già buttato qualcosa giù però evidentemente anche nel rifinire le proprie pagine il fatto di sentirle mentre lui stesso le diceva aveva un davvero e non era l'ultimo e non era l'unico Dostoevsky c'è Flaubert Kafka Dickens Marie Schill di alcuni non lo sappiamo però per esempio viene da chiedersi se certi poeti lo facciano perché la poesia è molto legata lo abbiamo anche già detto al suono e quindi non si ferma io tra i contemporanei ad esempio ho il forte sospetto che Baricco sia tra questi non solo perché è un musicista diplomato al conservatorio ma perché mi sembra proprio che dalla struttura dei suoi testi a volte che sembra proprio quasi una sintassi musicale è anche un ottimo lettore è anche un ottimo lettore c'è un'attenzione sicuramente alla musicalità della voce sicuramente sicuramente un'altra componente che se ci pensiamo viene fuori nel momento in cui si leggono cose proprie e io prima dicevo i poeti penso appunto spesso a poeti che magari hanno questa vengono chiamati a leggere poesie magari anche in occasione di premi penso anche a persone che conosciamo e che è importante che è l'emotività perché è logico che quella come dire non è così non è strettamente legata al fatto che io abbia scritto meno i miei testi perché mi posso emozionare leggendo la pagina o la poesia di qualcun altro però se io sono l'autrice o il poeta o questo questo aspetto si sicuramente secondo me si propone e va gestito e si amplifica e si amplifica si amplifica per forza e va gestito mentre se sei solo il lettore di un testo riversi la tua aspettativa cioè quello che è la tua la tua esperienza sul testo quindi e quello che quel testo suscita in te quando sei anche l'autore hai paura che le persone non percepiscano quello che tu hai scritto nel modo in cui tu volevi che fosse percepito e quindi c'è quella doppia secondo me anche chiave di paura dell'essere sia il mezzo sia l'autore del messaggio e anche la paura forse che l'emozione ti porti via dalla da riuscire a trasferire anche il tuo testo viene in mente un aneddoto di una nostra amica guarda tanto non facciamo nomi che scrive poesie che è veramente pluripremiata e una volta ha detto no io non me la sento non me la sento faccio leggere la poesia mia figlia e sua figlia recita si è commossa la figlia che è anche lei è una nostra amica esatto quando c'è un legame col testo penso sia difficile non farlo specialmente la poesia parla veramente alle corde proprio più intime quindi un buon consiglio ormai io sto imparando sto lanciando in elucubrazioni anche ardite quindi il consiglio per chi debba leggere i propri testi potrebbe essere quello di preparare dieci volte in più rispetto a un lettore normale direi che potrebbe per conoscerlo talmente bene da da non farsi cogliere impreparato dall'emozione in quel caso lì fuggire l'equivoco che dato che l'ho scritto io lo conosco bene già il testo e no però non è detta che tu lo conosca come suono perché quello che dicevamo prima abbiamo un testimonial d'eccezione perché prossimamente ospite un argentino Jorge Mario Bergoglio in arte Papa Francesco il quale ripete sempre che lui scrive moltissimo i suoi direttamente i suoi testi ma anche le sue omelie e lui ha proprio bisogno lo ripete sempre di ascoltare la sua voce che le legge perché anche lì il discorso di prima forse ho letto Schopenhauer finché è nella nostra testa sì siamo d'accordo con noi stessi ma a metà a metà la voce alta il suono della voce è sicuramente un ottimo fattore di controllo per vedere se effettivamente può essere efficace la nostra comunicativa che può essere o cognitiva se diciamo siamo nell'ambito della saggistica o spirituale nel caso appunto di Bergoglio oppure estetica se siamo nell'ambito dell'arte allora vi faccio una domanda bruciapelo e a voi succede essendo entrambe le figure scrittori e lettori autori e lettori ci è capitato più volte beh sull'emozione sicuramente sì io sono un emotivo quando entro in scena e ho dovuto lavorare veramente non il decuplo ma il ventecuplo non so se si dice così perché effettivamente anzi mi davo addosso da solo dicevo ma perché devi scrivere queste cose che poi lo sai che se le devi leggere oppure recitare sarà un lavoro che si fa si fa con la tecnica con l'esperienza con l'impegno si riesce assolutamente a governare ci mancherebbe se non si farebbe questo mestiere ma però c'è tanto lavoro dietro c'è più lavoro sicuramente sì poi c'è anche come proprio un po' l'impegno con se stessi di essere di farsi appunto un buon servizio perché se andiamo a leggere una cosa che ci soddisfa in quanto autori allora insomma perché buttarla via in una lettura magari frettolosa o non preparata oppure oppure chi lo sa anche eccessivamente caricata per magari compiacere l'uditorio poi queste cose capitano indipendentemente dal fatto di essere autori degli iscritti come abbiamo detto tante volte l'uscire fuori dalla misura non è mai un buon servizio ecco che si fa né a chi scrive in questo caso a se stessi ma neanche a chi ascolta penso che ci potremmo anche lasciare su questo argomento con una domanda ma il lettore autore a voce alta è più preoccupato del sapere che o quantomeno si preoccupa di più del fatto che il messaggio del suo testo non sia arrivato perché l'ha letto male o perché l'ha scritto male eh la lanciamo la lanciamo nell'aere anche perché ormai abbiamo preso questo giro di sollecitare le vostre le vostre esperienze e anche le vostre esperienze siamo allo spazio delle domande eccoci qua ormai è diventato abitudine questa è la seconda puntata ed è il primo episodio dove possiamo rispondere a delle domande riguardo l'episodio precedente e ce ne sono arrivati un paio ecco leggere sulla musica e devo dire ci sono arrivate un paio di domande inteso come leggere su una musica perché a volte leggere la musica sì è vero leggere a voce alta con un sottofondo di musica e allora mi parto io con le domande allora Deborah ci chiede o meglio dice due cose e poi ci chiede mi piace l'idea di leggere a voce alta su una musica grazie ho un paio di amici musicisti cosa mi consigliate meglio una musica registrata oppure addirittura dal vivo insieme a loro è interessante è interessante mi piace innanzitutto perché mi sembra che abbia proprio colto l'aspetto ludico innanzitutto perché comunque è un gioco la preparazione è proprio un bel gioco che si può fare effettivamente se si hanno dei musicisti con cui si può giocare insieme perché no certo è devo dire è un po' un partire a costruire la casa dal tetto perché è bene a mio avviso esercitarsi un po' magari anche a casa senza per forza andare per forza per la prima volta al pubblico però presentare farsi un po' le ossa ecco con delle registrazioni poi c'è anche un discorso che a quel punto chi sceglie la musica il musicista o il lettore è vero che si può lavorare assieme e sceglierla assieme non è detta quello di concerto però appunto deve esserci grande armonia dipende un po' dal genere dei musicisti tra l'altro di concerto armonia vedi siamo proprio nell'ambito della musica e vi faccio una seconda domanda eccola qua Roberta ci chiede faccio parte di un gruppo di lettura e ho parlato del vostro scorso podcast con i miei compagni ci attrae molto l'idea di mettere della musica sotto le nostre voci il problema però è che solitamente leggiamo in una biblioteca che ci ospita e non vorremmo che fosse preso come un elemento di disturbo sicuramente se glielo fate a tradimento avvisate prima salendo magari anche sui tavoli stile l'ottimo fuggente direi che per la nostra per la nostra esperienza che abbiamo di rapporti con le biblioteche si possono comunque creare degli eventi in orari particolari in situazioni particolari anche perché poi se i nostri amici appunto fa parte di un gruppo di lettura quindi hanno già uno spazio in cui comunque tirano fuori la loro voce in biblioteca quindi presumo che la biblioteca le abbia dedicato un luogo diciamo lontano dalla sala di lettura che può disturbare effettivamente certamente la musica si sente di più della voce però perché non provare magari a creare un evento di concerto con la biblioteca esatto quindi il consiglio è quello di contattare comunque la direttrice o il direttore della biblioteca e proporre magari fare un sopralluogo degli spazi per verificare che quantomeno l'acustica sia efficiente per permettere una fruizione sì magari in sedi storiche magari ci possono essere dei fenomeni di riverbero è vero questo è molto vero ma oltretutto colgo appunto un po' il timore elemento di disturbo ma anzi al contrario proprio per esperienza molte volte le direttrici e i direttori delle biblioteche sono ben contenti che i cittadini propongano cose in biblioteca proprio perché è una è una struttura sociale un modo di far vivere anche la biblioteca la biblioteca è un vano in più nella casa di ogni cittadino lanciati come si chiama Deborah sì e facci sapere come Deborah è la prima Roberta le ringraziamo entrambe ovviamente bene e quindi abbiamo terminato anche con queste domande se avete domande su questo episodio risponderemo ovviamente in quella della settimana alla prossima e anzi saremo autori lettori lettori autori metteteci la voce o la penna in questo caso metteteci la penna e quindi grazie allora grazie a tutti alla prossima alla prossima ciao ciao